Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro paese. Il 14 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi Io non rischio nelle piazze dei capoluoghi di provincia italiani per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Il cuore dell'iniziativa giunta quest'anno alla settima edizione è il momento dell'incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza. Ma l'edizione 2017 sarà un'occasione speciale perché le piazze si arricchiranno di iniziative ed eventi. I volontari infatti accompagneranno la cittadinanza in un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e alla memoria dei luoghi. Sabato 14 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Salerno partecipa alla campagna di sensibilizzazione. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto, maremoto e alluvione, l'appuntamento è in piazza Mazzini, piazza Portanova, lungo corso Vittoria Emanuele II e lungo il lungomare Trieste. La nuova edizione coinvolge volontari di 26 realtà associative della provincia di Salerno, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali. La Misericordia di Vallo della Lucania, con il suo gruppo di protezione civile, per il quinto anno consecutivo sarà presente a Salerno con 10 volontari. Sul sito ufficiale della campagna www.iononrischio.it è possibile consultare il dettaglio dei singoli eventi provinciali, scaricare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto e sui social è possibile consultare i dettagli degli eventi organizzati a Salerno.